Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. La Iesina è ancora scottata dalla sconfitta subita nell'ultimo turno di campionato nella trasferta contro la Zuracolli per due reti a zero. Il match si è deciso nel quarto d'ora conclusivo quando, al 75esimo, su punizione, Filipponi ha infilato un rasoterra alle spalle delle portiere Leoncello. Poi, a tempo scaduto, i padroni di casa hanno messo a sicuro il risultato grazie ad Alighieri che ha tagliato il campo e offerto a Romanazzo appena entrato la palla perfetta. Dobbiamo sicuramente ripartire dalla prestazione di domenica scorsa contro la Zuracolli perché comunque sia, credo che abbiamo dominato sia sul piano fisico che sul piano del gioco. Però ecco, nel calcio sappiamo che alla fine contano i risultati. Tutto sommato però usciamo anche abbastanza soddisfatti perché sappiamo che per noi sarà la prestazione di domenica scorsa, è un punto di lancio, una rampa di lancio per le prestazioni future. Ora, la Iesina ha l'obbligo di tornare al successo ospitando il Montefano che la precede in classifica di tre lunghezze. Occasione per raggiungere gli avversari e sperare di mantenersi nelle posizioni di vertice per raggiungere il sogno della Serie D. Sappiamo che troviamo una delle squadre forse più in forma al campionato che è il Montefano che lo dimostra anche la classifica che ha 31 punti se non sbaglio, è seconda in classifica. È una squadra molto fisica, gioca bene al calcio. Magari forse arriveranno qui un po' condizionati che non trovano un sintetico dove loro sono abituati a giocare. D'altro canto troverà sicuramente una squadra come la nostra che sarà pronta a dare battaglia dal primo al novantesimo. Per noi non sarà una partita facile perché veniamo sconvitta mentre loro vengono a un periodo positivo. Però siamo costretti a vincere sia perché ci teniamo, sia perché lo dobbiamo ai tifosi, sia perché lo dobbiamo alla società, perché non ci fa mancare mai nulla dal martedì fino a domenica e soprattutto anche per noi stessi perché è un motivo d'orgoglio. Sappiamo che siamo forti, siamo una bella squadra, lavoriamo bene in settimana e quindi è ora che andiamo a prenderci un po' dei risultati.